Ed eccoci qua nuovamente per una puntata di Talk Sicilia, il programma di intrattenimento e di approfondimento che non vi dà pace perché vi inseguiamo dappertutto, vi inseguiamo sul canale 14 digitale terrestre su Videoregione, vi inseguiamo sulla pagina di blog sicilia.it sui nostri social, un atteggiamento cross mediale si sarebbe il nostro per raccontare i fatti della cronaca della nostra terra di Sicilia e oggi abbiamo un ospite che ci racconterà un tratto particolarmente poetico e spirituale, la nostra terra proprio stando con i piedi per terra, diamo il benvenuto al mio collega e amico Fabrizio Alessi, Fabrizio buongiorno buongiorno anche a te, un piacere averti qui con noi, e allora Fabrizio, gli argomenti della cronaca in questi giorni sono tantissimi, si fa dalla fine della titanza di Matteo Messina Denaro, ci teniamo lontanissimi da questa vicenda che sta suscitando tantissime polemiche, probabilmente motivate, lasciatecelo dire, però il dato veramente che forse segna la storia di questa città è la scomparse di Fratel Biagio Conte. Sì, devo dire che è stata una notizia che per quanto attesa, perché si sapeva benissimo che Fratel Biagio stesse male, con una grave neoplasia, devo dire che è una notizia che ha traumatizzato una città, ma a quanto pare anche una regione. Ma probabilmente non solo, perché il carisma di Biagio Conte credo che vada oltre, sia difficile circoscrivere entro dei confini geografici, no? No, infatti la cosa straordinaria di quest'uomo che decise di abbandonare tutto, una situazione agiata, una famiglia di imprenditori, piccoli imprenditori, quindi anche denaro, soldi, moda, divertimento, per una tolgorazione improvvisa, per non accettare quello che i suoi occhi vedevano in giro per la nostra città. Non accettare l'ingiustizia. Però facciamo un piccolo passaggio da Fratel, scusami, ovviamente tu sei qui per raccontare la storia di Biagio Conte, ma anche per raccontarci più che una testimonianza la tua amicizia con Biagio Conte, perché tu l'hai conosciuto, sei uno dei pochi che può dire di essere stato veramente vicino a Fratel Biagio. Ma vedi, lo conobbi, allora lavoravo a TGS per le numerose iniziative che lui portava avanti con la missione di speranza e carità e quindi per le numerose interviste che gli feci. Vedevo questo personaggio che sembrava un po' strano. Quindi in che anni parliamo? Parliamo del 96, 97. Parliamo di un periodo in cui non era ancora nato il mito di Biagio Conte, stava facendo i primi passi. Esattamente, quindi una conoscenza è anche frutto di queste iniziative che lui portava avanti per far conoscere la missione di speranza e carità. A quei tempi era considerato una spina nel fianco dai politici? Beh, devo dire che… Perché era quasi eretico, era vissuto come un'eresia. Io ho sempre usato una mia metafora, diciamo, più che una spina sul fianco, Biagio era la peggiore forma di protesta che la politica cittadina e regionale. Protesta cittadina? Sì. Perché Biagio ci abituò improvvisamente in quegli anni a scioperi della fame, occupazioni, proteste. Tutte forme di manifestazione violente. Pacifiche. E perché io lo facevo? Quanti se ne sentivano dire su Biagio Conte? Chissà perché lo fa. Qual è il secondo film? Sarà ricco. Sì, certo, poi spuntò fuori la storia. Il nostro paese di vita, non lo so se tu te lo ricordi, all'inizio era tutto personale. C'è un periodo di quel periodo lì, all'inizio, quando iniziava, come dire, iniziò a spuntare fuori una storia, ah ma perché lui si fa donare palazzi, sta creando un imperio immobiliare, delle sciocchezze senza limite, perché poi tutto veniva donato alla missione, no? Ma roba, delle sciocchezze inaudite, tanto che prova lei che Biagio... Ma scusa però, io non capisco una cosa, tu che, diciamo, che risposta ti sei dato a questa cattiveria gratuita nei confronti di Biagio? Ah, la società, esattamente, il motivo di protesta per cui Biagio decise di lasciare tutto, per dare una risposta, perché la società era una società cattiva, una società che scavalcava gli ultimi, lui li chiamava... Calpestava più che scavalcava, calpestava proprio... No, no, ti dico, sai perché uso scavalcava? Per un motivo magari che può sembrare ironico, che se si vedeva un povero, via, non lo calpestavi nemmeno, lo ignoravi, poteva mortire davanti, e gli passavi davanti, accanto, come se nulla fosse, quindi questo personaggio... Quindi Fratel Biagio ci ha costretto ad aprire gli occhi? Fratel Biagio ha fatto un qualcosa di unico, ovvero ha creato, partendo come sai benissimo dalla stazione centrale, visto come pazzo, possibilmente un malato di mente, sempre con chi sa, secondo quali fini, un'accoglienza a dei poveri disgraziati, e senza fissa di mora, degli alcolisti, delle persone abbandonate, dei locali che erano le stazioni d'aspetto della nostra stazione centrale di Palermo, poi vedeva in giro degli edifici... Ma fin dall'inizio, secondo te, il progetto di Biagio era chiaro, cioè quello di creare un luogo di accoglienza... Allora, a questo non posso rispondere, perché lo sa solo lui, però so che lui viveva col bisogno di accogliere quante più persone possibili, il rifiuto è data dalla società, ma perché? Andiamo ora a fare un attimo i giornalisti. Le istituzioni cosa davano a queste persone? Niente. Dormitorio comunale come era gestito? Non era gestito. C'erano altri luoghi dove un povero, per esempio... Potesse essere scolto? No. Cosa ricevevano? Niente. Sì, per carità, la Caritas Diocesana, per carità, dico lì massimo rispetto. Allora Biagio aveva nel cuore, ma questo non lo fa nessuno, scusatemi, folgorato non sulla via di Damasco, ma sulla via di San Francesco, a cui lui si ispirò e dedicò, secondo me, gran parte della sua vita. Sì, anche le spoglie mortali sono state, come dire, i sandali mi hanno particolarmente colpito, quei sandali che non abbandonavano mai. Mai. Per camminare tanto, poi. No, per camminare tanto, sempre a piedi scalzi e senza calze, l'estate, l'inverno, sempre coperto, sempre con una pudicizia e con una regola ferrea, pur non essendo un consacrato. Sì. Perché molti ancora non hanno chiara bene questi giornali. Biagio non ha ricevuto i voti. E chiaramente è in odore di santità, però è un missionario laico, non ha mai... E una persona come me o come te, magari domani tutti e due impazziamo, e diciamo di... Ah, vedi, però hai commesso un piccolo errore. No, 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 te l'ho dito. Hai parlato impazzire, in realtà. Certo, perché verremmo... La pazzia non è far finta di non vedere le cose che... No, 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 perché verremmo considerati... Ah, verremmo considerati come... Io già lo so. È quel pazzo di Piero, quel pazzo di Fabrizio, quel pazzo di... Non è pazzia, è una vocazione. La sua pazza di montaggio di report c'è scritta, qui siamo tutti matti, quindi i giornali sì, si stampano. Vabbè, noi normali non siamo, su questo non ho dubbio. Però, qual è il concetto? Ha creato una speranza. Occupò, con lo sciopero della fame, fuori dai cancelli, l'ex disinfettatorio comunale, fino a quando... E tu hai raccontata con le telecamere i tiri... Sì. No, non fui io a raccontarla questa, o altri colleghi, io arrivai dopo. O un po' dopo. E... Quando sono fiese di affidare, con un comodato d'uso gratuito, credo, di 99 anni. Non vorrei dire... Questa è la formula che usa l'amministrazione per consegnarti... Diciamo che l'amministrazione, vi lo diede per disperazione, secondo me, perché il viaggio non smetterebbe... Ma ai tempi chi era il sindaco? Leo Luca o... Credo Leo Luca. Leo Luca, sì. Credo, non... E poi si creò un rapporto anche ben saldo fra Orlando e... La cosa bellissima è che era disintegrato dentro questo disinfettatorio comunale. Le cronache di quel tempo ci dicono come gli ospiti della missione Esperanza e Carità, chi magari faceva il muratore prima di finire nella strada, chi faceva il muratore, chi piano piano con le donazioni, con gli aiuti, eccetera... Quindi aspetta, fammi capire. Allora, si entra in questo disinfettatorio comunale e le persone che hanno le marginate, che stavano perdendo le loro vocazioni, il loro talento, non soltanto trovano un giacio dove dormire, un tetto dove dormire, ma vengono anche riportate alla loro... Valorizzate. Esattamente, perché l'obiettivo di Biagio Conte non era ti do un letto, stati là, ti do un... Ognuno deve fare la sua parte. Dobbiamo sbracciarci perché la vita non è finita, quindi se tu hai questo talento, qua entra un discorso biblico altissimo, se volessimo citare la Bibbia... Vorremmo bassi, vorremmo bassi, Fabrizio, vorremmo bassi. Dobbiamo valorizzare i propri talenti, quindi il muratore... Non è molto suggestivo però riascoltare come i primi passi della missione Speranza e Carita. Quindi fu bellissimo vedere, anche per noi giornalisti, questa crescita improvvisamente. Peraltro, diciamo, bisogna anche contestualizzare il momento storico, perché questa vicenda nasce quando contemporaneamente la Sicilia diventa improvvisamente, improvvisamente non tanto, ma finisce sotto la pressione delle emigrazioni clandestine. Sì, grande verità. Là, diciamo, c'era un problema in più per Biagio Conte, perché Palermo era una città profondamente razzista fino a quel momento, quindi c'era il nero... Palermo è ancora oggi una città profondamente razzista. E forse è molto cambiata, per un po' di vista. Meno, perché anche la società... Quindi non soltanto Biagio Conte si caricava gli ultimi desideri dati che erano stati emaginati dalla borghesia palerricana. Ma chi arrivava dai Parconi chi arrivava... Chi arrivava dai Parconi, quindi c'era brutti, sporchi e cattivi, con un figlio di attore... Sì, e quindi chi viveva in missione non era considerato, per esempio... Di Paria. No, era considerato un parassite. Un parassite. Ci furono delle volte in cui qualcuno protestò, levateci i parassiti, ecco per dire il grado di razzismo. Cosa che cambiò, perché poi piano piano, e noi li seguivamo, no? Ci furono queste crescite, l'accoglienza a farsi dare, per esempio, altra adorazione, è una missione femminile, perché uomini e donne non possono giustamente convivere. Secondo l'etica di Biagio, anche perché il maschietto può avere le sue pulsioni, la femminuccia pure... No, ma al di là di questo c'è anche un aspetto molto crudele in tutto questo, perché ricordiamoci che Palermo è stata una delle tappe delle tratte nigeriane, quindi le persone che Biagio ricordiamoci di una storia che raccontavamo 25 anni fa, delle famose prostituzioni nigeriane, per esempio, nel Parco della Favorita, e c'era con i loro magnaccia e con tutto quello che le conseguiva, le liti che succedevano nel famoso piazzale dei matrimoni, scomparvero. Ce ne furono sempre meno. Ma la cosa bella... Diciamo ancora un problema non del tutto risolto, perché ancora a Ballarocci dicono le cronache che ci sono dei covi clandestini. No, io... Per mia... Però non entriamo nel dettaglio, ma è per dare il quadro, come dire, politico... Io lo definirei il quadro politico e geopolitico della missione di Biagio Conte. Geosociale. Geosociale è buono, l'ha inventato adesso. L'ha inventato adesso. Hai coniato un neologismo, geosociale. L'ha visto. Ma intanto in regia vediamo le immagini del grande abbraccio del Palermo dedicato a Biagio Conte, accompagnando la sua salma dalla missione di Biarchirafi, attraversando la città fino alla cattedrale. E giornalisticamente... Non lascia perdere questa cosa. No, giornalisticamente... Fabrizio, ti do un suggerimento. Guarda, noi giornalisti siamo considerati veramente... Noi ora siamo gli scarafaggi della società, quindi meno giornalisticamente facciamo le cose, meglio. Facciamo le cose, cambiamo socialmente. Socialmente. Vedere che una persona, 30 anni fa, era sola e vedere quel fiume umano, io credo che non abbia prezzo. Soprattutto non ha paragoni probabilmente. No, non c'è una storia di questo tipo. E la cosa bellissima dei suoi digiuni, del suo eremitaggio voluto, del suo stare al digiuno penitenziale, della sua preghiera continua, Biagio non smetteva mai di pregare, del suo veramente abbracciare tutti, senza problemi se la sua fosse malata, non malata, abbracciarli. Andare negli ospedali... Questo sì è il Vangelo. Esatto. E tu che abbraccia le brofono. Esatto, andare negli ospedali come missione continua, quasi giornaliera, a trovare i malati nei vari reparti, dall'oncologico al pediatrico, dalla cardiologia a qualsiasi altra cosa. Non è che gliel'ha imposto il medico, l'ha voluto fare lui. Ma la potenza di vedere quell'uomo, quando marcava la soglia di un reparto, e un reparto intero, medici, infermieri, pazienti, che si fermavano. Mamma mia. E io dicevo, ma chi è questo? Chi è costui? Come fa? Allora c'era solo un modo per capirlo. Parlargli, stargli vicino, viverci. Ma tu gli hai parlato un po' e che... Vabbè, ho avuto tanto tempo. Ma c'hai qualche aneddoto particolare della tua amicizia con Biagio Conte? Qualche cosa che ovviamente non sia, come dire, gossip, che non sia qualcosa di particolarmente riservato della tua storia con Biagio Conte, ma qualche dettaglio particolare che qui sottolinea la sua comunque umanità, nella profondità del suo messaggio religioso. Fabrizio ricordati che non ci possiamo mai fermare. Dobbiamo servire gli ultimi. Impressione. Detto alle 10 di sera. 10 di sera dopo che la mattina è che ora ancora iniziava? Alle 6 Biagio Conte era già super operativo e non conosceva stanchezza. Non conosceva stanchezza nemmeno, e questo lo devo raccontare, ahimè, da cronista, che lo vedi quando era in sedia a rotelle, nemmeno quando era in sedia a rotelle, addirittura la scena comica era lui con la sedia a rotelle che scendeva dai decollati, arrivava gli archirafi, attraversava tutto con la sedia a rotelle e tagliava la via Lincoln. E' una cosa impressionante. Dopodiché testimonianza di fede, dopodiché racconto ai bambini, racconto a chi lo andava a visitare, gli scout, la GESH, tutto. Chiaramente era motivato da una forza interiore sovra naturale. Lo dico perché la penso e ci credo, era mosso da Dio. Lo dico da super credente, desueto. Perché desueto? Perché oggi vedo molta gente professarsi credenti ma non fare i credenti. Ma sai che questo è un problema di noi cattolici? Perché faccio il paragone per esempio con i musulmani. I musulmani hanno un dogma e lo seguono rigorosamente. Noi cattolici invece, ma questa è un po' colpa della teologia della liberazione, del concilio valentino secondo, abbiamo abbassato la guardia, abbiamo reso il nostro dogma elastico per essere più, come dire, perché un po' ci vergogniamo di essere. Ti faccio una domanda. Hai detto noi cattolici. Noi cattolici. Quando è l'ultima volta che sei stato ammesso? Questo è un dato personale che riguarda la mia pravia. Quando è l'ultima volta che hai fatto un digiuno per penitenza? No, il digiuno non lo faccio mai, ma hai fatto nella mia vita un digiuno. Allora, rispettando la tua privacy, ma se oggi volessimo parlare realmente… Sì, io mi rendo conto che non seguire il dogma… No, 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 ma… Io mi professo cattolico, ma non sono… Siamo tutti cattolici. Cosa facciamo ognuno di noi per un povero? No, questo lo diciamo, non lo so, questo veramente… No, vabbè, oddio, questo è super privacy. Perché a me capita un sacco di vostri, non mi sembra il caso di fare… Però voglio dire, se io penso… Cioè non è il momento di farsi autopromozione che hai fatto questo, che hai fatto quello. No, no, è un fatto in generale. Infatti lo dico anche a me stesso, non do una risposta. Non la darò mai perché la valore non mi appartiene, meno che mai dopo aver conosciuto un grande uomo come Biagio Conte. Però, se veramente Palermo, quel fiume di gente, tutti noi, un euro al mese, 16.000 persone, 20.000 persone, se veramente… Perché ora c'è il problema più grosso, sostenere la missione. Ma a quanto pare oggi è arrivata una buona notizia, questa diciamo la cronaca ci ha superato, un piccolo miracolo già si è verificato. Stamattina dalla missione Esperanza e Canità ci hanno comunicato che l'Enel, grazie a un accordo sottoscritto con la regione siciliana, ha stralciato tutti i deboti di morosità per l'energia elettrica e hanno messo in condizione la missione di poter attivare l'impianto fotovoltaico. A questo credo che sia già un grandissimo passo avanti. Ma tanti sono i passi avanti che si possono fare e partono. Però aspetta Fabrizio, facciamo un poettino un punto locale, perché al di là, come dire, le nostre teorie, ci possiamo confrontare l'infinito sull'essere cattolici, su come dovrebbe essere… Viaggio, attenzione, accoglieva… Una cosa importante che tu hai detto, benissimo. Non accoglieva soltanto i cattolici. Ma quando mai? Forse la maggior parte degli ospiti dell'anzione… Atei, musulmani, atei, tantissime persone… Facciamo un poettino il quadro sulla realtà, come dire, metto virgolette, imprenditoriale, cioè la struttura missione carità che nasce perché oggi ha sette antenne o otto, non ricordo bene. Beh, c'è la missione a Tagliavia, dove si coltiva, soprattutto vicino a Corleone. E cosa coltivano? Grano, certo, c'è la missione a Villaggio Ruffini, dove si coltiva pure, sono accolte tantissime persone, c'è la missione femminile, c'è la missione di Castellammara del Golfo, dove si coltiva pure. Ci sono tante realtà. Frutto di donazioni, anche dell'Arcidiosi di Palermo, concessioni, ora non sono solo donate, sono concesse. Sono della disponibilità della missione. Ma il gran lavoro viene fatto da un grande uomo. Perché vedi, Biaggio, figura che io non riuscirò mai a spiegare. Il grande uomo è Biaggio Conte? No, ma accanto c'è una figura, sto parlando dell'immenso don Pino Vitrano. Perché trovare al giorno d'oggi una persona con un'umiltà incredibile, con un sorriso che disarma, con una disponibilità incredibile. Guardi le due foto, sembra il fratello più anziano di Biaggio Conte, don Pino Vitrano. Secondo me don Pino è quel papà, fratello. Sono stati l'uno per l'altro, secondo me, tutto. Ci sono compensati. Sì. E di don Pino segue tutti i lavori dovunque, è istancabile, fa centinaia o migliaia di chilometri a settimana. Per andare a trovare i fratelli ultimi, per andare a vedere come stanno, per sapere se manca qualcosa. Vedi, la missione, lo dice la parola stessa, è un'unione di forze che deve raggiungere un obiettivo. L'obiettivo non si raggiunge da soli, si raggiunge con una gran cooperazione da parte di tutti. Quindi, diciamo, per concludere, perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito, tu eri terrorizzato, diciamo, a 24 minuti. Hai visto che sono volati via con un battito? Ma sai, io, allora, come tu ben sai, sono molto, vivo una privacy di vita incredibile. Quando tu mi hai chiamato ero titubbante e poi ho detto, no, è giusto dare un ricordo della persona comunque sia che ho conosciuto. Hai buone mani la missione Esperanza e Carità oggi. Cioè, tutti sono preoccupati dal fatto che senza frate e il viaggio la missione possa incontrare dei problemi. Io sono certo che con Don Pino e con i fratelli che ci sono stati e che ci sono, con i volontari, la missione andrà avanti, ovviamente con l'aiuto di tutti. Quindi dipende anche da noi? Beh, dipende da tutti. Allora, io direi, nel salutare chi ci ha seguito e chi poi potrà continuare a seguirci anche sui social, nel ringraziare Fabrizio Alessi, l'impegno che tutti noi dobbiamo prendere è fare un piccolo sforzo per far continuare il sogno di Biagio Conte. Non è vero, Fabrizio? Ma sì, è una cosa facile, è una cosa semplice. Lo dobbiamo alla nostra città di Palermo, lo dobbiamo a un grande uomo e lo dobbiamo soprattutto, credo, a tutti coloro. E forse lo dobbiamo anche a noi stessi, per diventare un po' migliori. Ma nella speranza che nessuno pensi che ci dobbiamo lavare le coscienze facendo questo, perché non ce ne l'abbiamo affatto, però nella certezza che, diceva qualcuno prima di me, piccoli passi per grandi passi. Piccoli passi per grandi passi. Mi piace ricordare questa frase. Invitando tutti voi a compiere quei piccoli passi che ci rendono migliori, io ringrazio nuovamente Fabrizio Alessi, grazie a te, ringrazio chi ci ha seguito e ci vediamo alla prossima puntata i Talk Sicilia.